Facciamo un piccolo escursus sui provider di streaming Vabbè, sugli streaming Io leggo che è una serie di Netflix Sì, recentemente mi è capitato di vedere questa serie che mi ha attirata subito, in realtà per il titolo perché ho fatto dei collegamenti con lo slogan non una di meno, ma in realtà il riferimento è relativo Si tratta della serie spagnola Ni Una Mas che poi ho scoperto essere tratta da un libro un libro che è scritto da uno scrittore e sceneggiatore e anche redattore di un'agenzia stampa tale è Miguel Saez Carral il libro appunto si intitola Ni Una Mas pubblicato in Italia da 360, se non sbaglio E qual è la storia di questa serie? Allora, è una serie diciamo che ha l'immaginario e l'estetica teen non proprio teen, però ecco io come riferimento ho trovato una forte somiglianza con per esempio 13 che era quella serie americana sulla ragazza suicida che raccontava in 13 cassette riferite a 13 altri personaggi della storia che cosa le fosse successo Sempre Netflix, giusto? Sempre Netflix, sì è una serie di un po' di tempo fa anche quella se non sbaglio poi ha avuto dei libri non mi ricordo se i libri sono venuti a seguito della serie o se erano precedenti ci sono state varie stagioni anche quella molto interessante molto molto forte forse anche più forte di questa dal punto di vista diciamo cruda ecco, questa appunto è una serie spagnola con un ottimo cast dei giovanissimi attori la protagonista è Nicole Wallace ma c'è anche Gabriel Guevara chissà se è parlato e Clara Gaie sono tutti giovani attori spagnoli e la storia è ruota attorno a Alma che è appunto questa protagonista Nicole Wallace molto tra l'altro molto bella con un viso proprio adatto a questo mondo qua diciamo che si presenta a scuola con un grande cartellone con scritto in questa scuola c'è uno stupratore e praticamente in tutti gli otto episodi è una serie abbastanza piccola gli episodi sono all'incirca da 45 minuti se non sbaglio racconta diciamo che piano piano scopriamo un po' come sono andate le vicende la cosa interessante è che non è scontato diciamo non è scontato non è scontata l'identità di questo violador di questo stupratore però il punto fondamentale è che racconta la violenza sessuale dalla prospettiva di liceali praticamente questo più o meno è l'età dei ragazzi e delle ragazze e soprattutto racconta secondo me in maniera molto efficace come è facile per una ragazza intanto diventare vittima di stupro e poi soprattutto diciamo quanto è labile il confine tra il consenso e non il consenso a quell'età cioè quanto è veloce per un maschio non capire che la persona che ha davanti non sta consentendo a quel rapporto e anche quanta poca consapevolezza c'è da parte di questi ragazzi che nonostante sembrino molto sciolti dal punto di vista sessuale molto liberi molto anche tranquilli nel gestire la propria sessualità in realtà poi non è così non sono né abbastanza consapevoli di loro stessi e loro stesse né sanno bene come rapportarsi con l'altro sesso quindi insomma io l'ho trovato devo dire carino interessante carino ovviamente è abbastanza drammatico anche perché si nota bene la presa di coscienza della protagonista rispetto alla violenza subita e anche il cambiamento che fa nelle relazioni interpersonali cioè come si chiude in se stessa come non sa diciamo gestire questa cosa giustamente e come si dà delle colpe pur avendo una anche abbastanza avanzata consapevolezza per esempio delle tematiche femministe delle lotte contro la violenza sulle donne c'è un ambiente diciamo anche scolastico soprattutto delle compagne di classe che sanno di cosa si sta parlando a un certo punto si avvicina l'8 marzo e quindi devono preparare la manifestazione e vengono fuori parole come etero patriarcato cioè delle cose che insomma obiettivamente io quando stavo al liceo non avevo neanche idea che esistessero queste parole quindi c'è una consapevolezza diversa parliamo della Spagna la Spagna comunque ha anche una cioè è un pochino più avanti secondo me sulla diffusione di queste tematiche anche a livello scolastico fatto sta che però questo non cambia la realtà dei fatti ci sono comunque delle violenze ci sono dei maschi bulli che non solo bulli cioè che sono evidentemente in preda alla mascolinità tossica non sanno come gestire neanche il fatto che le donne le compagne vogliano potersi esprimere rispetto a certe tematiche a un certo punto lei viene minacciata da questi compagni di classe perché? perché in classe durante appunto una discussione rispetto a questi a questi argomenti allo sciopero dell'8 marzo lei ha detto la sua e li ha rimproverati perché loro hanno detto vabbè ma in fondo che cosa ormai ce l'avete la parità no sai queste cose tipiche dei maschi anche in realtà dei maschi di una certa età insomma però ecco e lei li ha rimproverati e poi loro la minacciano per questo quindi insomma sono tematiche interessanti importanti molto attuali viste da una prospettiva molto giovane viste da un paese che sicuramente con queste tematiche ha un rapporto più maturo probabilmente del nostro soprattutto in ambito giovanile ha un ottimo cast diciamo ci sono c'è qualche ingenuità ogni tanto nel senso che non so se è dovuta a un discorso di sceneggiatura o magari invece proprio a un'abitudine di un paese diverso perché per esempio c'è una delle tre protagoniste perché sono tre amiche protagoniste c'è questa Alma che è la ragazza che è stata stuprata e poi ci sono le sue due migliori amiche di cui una è in una relazione evidentemente molto tossica con un ragazzetto diciamo che vuole fare il figo e che un po' la tratta diciamo da come se fosse un oggetto ma lei cerca anche un po' di starci in quel ruolo perché pensa che le dia potere sembrare una a cui piace molto il sesso una che si si presta tutto ecco e poi c'è l'altra amica di Alma che invece è lesbica e che ha insomma cerca delle relazioni con queste altre con le ragazze il fratello di questa amica lesbica praticamente ha una piantagione di marijuana nel basement di casa però i genitori lo sanno cioè nel senso è tipo un'attività di famiglia nel senso che lui lo fa perché i genitori al momento sono disoccupati e quindi per diciamo aiutare il bilancio familiare spaccia ora questa cosa mi sembra sembra un po' così calcata di mano però mi rendo conto che magari invece in Spagna è una cosa che si fa non lo so ma anche Nicolo Contessa diceva dovremmo monetizzare questo nostro grande amore forse boh non lo so perché lo dicono una certa nonchialanza insomma però vabbè a parte queste piccole cose secondo me è una serie interessante a livello filmico anzi come dire audiovisivo ci puoi dare dei riferimenti prima fuori onda mi ha indicato nella playlist delle vibrazioni anche delle atmosfere alla scam sì come ho detto la 13 è scam nel senso che sono protagonisti molto giovani che vivono il liceo la cosa forse interessante è anche questo il fatto che probabilmente vivono vicino a una a una città ma non molto grande e sono quasi tutti un po' in periferia perché prendono in continuazione questi autobus a lunga percorrenza quindi Prisma eh sì un po' tipo Prisma sì che loro dove stanno a Latina no a Latina scusami sì però Latina è una città non lo so non so dire quanto possa essere grande questo posto dove stanno però il fatto sta che ci sono questi ragazzini che non avendo la patente probabilmente qualcuno ce l'ha dei più grandi ma insomma loro per esempio non ce l'hanno prendono sempre questi autobus anche di notte stanno lì che aspettano st'autobus e mi sono un po' immaginata come se uno abitasse o nella periferia di Roma o comunque fuori da un centro di città e quindi c'è questa ulteriore difficoltà perché queste quando si devono muovere poverine per esempio anche vestite per andare a una serata a una festa devono stare per strada e quindi vengono sempre diciamo prese in giro non prese in giro diciamo di schiave esatto di catcalling di gente che passa in macchina le fischia ah ecco vedi mi dice Barbara ciao lo spaccio per aiutare la famiglia è una citazione di Almodovar ah sì potrebbe essere dovrei chiedere bisognerebbe chiedere a Pedro o allo scritto non so se c'è anche nel libro questa cosa ah per esempio Margherita dice uguale a Skins come distanza e c'è anche un po' quel mondo lì noi abbiamo noi romani noi dentro il grande raccordo armare perlomeno abbiamo una dimensione anche delle distanze della libertà di movimento è molto falsata anche in quanto dei ambulanti su entrambe le gambe no no beh certo però appunto la velocità di trasporto tra la nostra casa e il centro del divertimento che potrebbe essere un locale è sicuramente più stretta e più ridotta rispetto a una persona che abita anche a pochissimi chilometri dalla da casa nostra però appunto tutto questo drammaturgicamente parlando crea appunto questo luogo di passaggio poi ci sono dei non luoghi cioè dei luoghi magari che ne so alla fermata dell'autobus a un certo punto che è una fermata in cui ci sono magari dei piccoli negozietti un piccolo centro commerciale una specie di autogrill fai conto e loro si fermano perché l'autobus successivo passa dopo mezz'ora dopo 40 minuti e quindi con le amiche si fermano a prendere una cosa e lì fanno altre chiacchiere cioè ci sono tanti luoghi che insomma me lo fanno sembrare un po' un po' diverso e un'altra cosa secondo me interessante sono le dinamiche familiari perché questa Alma ha due genitori madre e padre un fratellino più piccolo e diciamo che i due genitori sono un po' in contrasto rispetto all'educazione di questa figlia quindi la madre si pone in termini dialoganti cerca di capire cerca di non farla chiudere totalmente in se stessa il padre invece è completamente diciamo un muro da quel punto di vista e appena lei fa delle cose che non deve fare per tipo scappare di casa andare a ballare oppure che ne so va un po' peggio a scuola perché ovviamente loro non sanno che lei ha avuto tutta una serie di traumi che non ha il coraggio di raccontare e quindi ha diciamo il suo rendimento scolastico cala e il padre ovviamente Sarrabbia a un certo punto quasi le mette le mani addosso per menarla e la madre invece prende le sue difese quindi c'è anche un po' e anche un po' diciamo una riflessione che loro fanno in continuazione su come rapportarsi con l'adolescenza di questa figlia che facciamoci dobbiamo parlare dobbiamo punirla dobbiamo essere un punto di riferimento dobbiamo essere rigidi tutta una serie di cose che possono essere interessanti le ho trovate anche abbastanza credibili ve la consiglio Barbara attraverso Whatsapp ci dice che la citazione almodovariana viene dal che è cioè io paramere serresto cosa ho fatto per meritare in mi questo sì e che cos'è un film 1984 Pedro Almodovar scritto e diretto da Pedro Almodovar ah ok ok lo recuperiamo ok vabbè si vede che è una cosa che forse in Spagna può capitare non so a me sembrava un po' fuori dalla logica però poi mi sono detta che in realtà non è detto perché magari invece una gestione della legalizzazione diversa da quella che abbiamo noi porta ad avere giustamente però è ancora un'attività illegale nella serie cioè nel senso lui ha paura della polizia quindi non è che lo fa proprio come mestiere tipo come progetto industriale però comunque i suoi genitori contano molto su questa entrata tant'è vero che lui si sente un po' quasi quasi ingabbiato no? cioè quasi che non è libero di fare quello che vorrebbe perché deve sostenere la famiglia spacciando ecco che è interessante un punto di vista interessante particolare sotto la nostra voce abbiamo sentito piano 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 la composizione di Lucas Vidal per Nina Mas esattamente la serie televisiva su Netflix che vi ha raccontato Flavia io quando vedo quella n rossa e appunto il resto della parola penso all'algoritmo lì le ingenuità quelle cose che tu hai detto sì vabbè ma questa cosa così di qua e di là potrebbe essere causa dell'algoritmo qualche intervento cioè una cosa che devono mettere per far funzionare il tutto no io non credo secondo me questo rientra perfettamente nei gusti perché comunque è per un pubblico più giovane tratta delle tematiche importanti interessanti da un punto di vista che non è non è vecchio quindi secondo me almeno rientra nelle mie scelte l'algoritmo con me funziona ma credo che stia andando anche bene perché se hanno tradotto il libro non so credo che insomma lo stiano guardando in a proposito di musica e a proposito appunto chiedevo dei riferimenti con con produzioni serie già viste il corrispettivo con Prisma mi porta anche a cercare una soundtrack comunque le canzoni dentro questo brano dentro questa serie oltre alle composizioni di Lucas Vidal vedo che nella colonna sonora compare Nick Cave tra i nomi che riconosco io quindi nel mio piccolo Billie Eilish vedo anche Rosalia ma c'è anche la canzone che sentiamo in questo momento anzi subito dopo si chiama Happy Place e viene cantata da Alison Wonderland Grazie a tutti